Ben trovati da Gerardo Paterna per ReTV. Oggi intervistiamo un personaggio che ancora non ha calcato le nostre scene. Stiamo parlando di Simone Rossi, direttore generale del portale gateaway.com. Ciao Simone, grazie per essere qui. Ciao Gerardo, grazie a te per l'invito. Grande opportunità per gli agenti immobiliari, ovvero la possibilità di rendere internazionale il proprio business, cercando di attirare potenziali acquirenti anche dal mercato estero nelle proprie zone. Giusto? Questa è un po' la mission del vostro portale. Assolutamente sì, anche se devo precisare, non c'è da attirare una clientela, un acquirente che non sa di voler acquistare case in Italia. La clientela c'è già, è un mercato che è forte, è presente, è lì da tanti anni, anche se è ancora molto da scoprire da parte degli agenti immobiliari, quindi dei player del settore italiano, ma è lì ed è da tanto tempo che lì ha una passione per l'Italia e sta cercando immobili in Italia, fa fatica a trovarli. Grazie al cielo c'è anche Gateway che comunque presenta, siamo all'estero, siamo sicuramente il database di immobili italiani più grande che c'è, quindi comunque diamo una grande scelta all'acquirente esterniero. 150 paesi? Siamo visitati più di 150 paesi. Diciamo che i 150 è il numero di paesi che ci visitano a una certa costanza, però ovviamente paesi che visitano il sito sono anche di più. Ok, allora, acquirente esterniero in Italia viene sempre da pensare all'oligarca russo o al ricco cinese che compra soltanto a Capri oppure a Venezia. In realtà ci sono anzi tanti clienti che sono interessati anche a zone meno rinomate e che magari possono spendere anche qualche euro in meno. Su questo cosa ci racconti? Sì, c'è effettivamente questa, diciamo, miscredenza che l'acquirente esterniero vuole solo ed esclusivamente il pezzo da 10 milioni di euro, l'immobile da 10 milioni di euro costa Smeralda. C'è anche quello, non lo voglio dire, ma ovviamente i numeri sono molto più risicati. Non è un mercato estremamente di nicchia, è un mercato che sta diventando, passami il termine, popolare. Quindi che cosa vuol dire? Che ci sono tantissime persone che possono permettersi innanzitutto un viaggio in Italia, questo grazie alle rotte low cost, quindi spesso fare un viaggio da Londra a Firenze o a Catania costa magari di meno che fare un viaggio in treno fra Londra e Manchester. Quindi questo ha aperto tantissime rotte, ha aperto comunque un mercato a gente, diciamo, normale, gente borghese, normale, che magari ha 100-150 mila euro da spendere in una seconda casa. Esatto, non sono poverelli, ecco, comunque perché chi ha 100-150 mila euro da spendere in un altro paese più il costo comunque di andare in questo paese per sfruttare l'immobile, proprio poverello non è. Però questo è il mercato, è un mercato, noi abbiamo più di 150 mila visitatori unici al mese sul portale, quindi ti rendi conto che il mercato inizia a riflettere quello che è la suddivisione della classe sociale, quindi c'è molta più gente nel mondo che ha 100 mila euro da spendere, 200-250 mila euro, che gente che ha 10 milioni di euro. Quindi anche il flusso delle richieste più o meno rappresenta questo ceto sociale. Diciamo che il 60% delle richieste arriva fino a 250 mila euro e circa il 7% da 500 milioni, un altro 7% dal milione in su e poi ovviamente c'è nel mezzo questa... Quindi si suddivide così che se andiamo a vedere più o meno sono i numeri della suddivisione sociale, ripeto, forse più o meno il 60% delle persone ha un 100-150-250 mila euro da spendere. Dove comprano? A parte Capri, Venezia, Roma, Firenze? Beh sì, allora diciamo che anche lì come si sta distribuendo un po' in tutte le nazionalità, quindi tantissime nazionalità, sempre più nazionalità cercano case in Italia, anche le zone si stanno distribuendo, fino a 20-30 anni fa la faceva da padrone la Toscana, che ha sempre il suo appeal, se andiamo a guardare la classifica sta sempre piantata in prima posizione la Toscana, però il gap con le altre regioni sta diminuendo, ma non perché sta scendendo la Toscana, perché stanno salendo le altre regioni, molte agenzie si propongono anche di regioni che prima non attiravano per niente gli acquirenti stranieri. Un esempio? Un esempio è la Sicilia, la Sicilia ad esempio qualche anno fa noi facevamo tantissima fatica a trovare agenzie immobiliari che volessero proporse all'estero, poi piano piano hanno iniziato, quelle che hanno iniziato hanno iniziato a mettere nel mercato immobili adatti acquirenti stranieri, gli acquirenti stranieri che già cercavano case in Sicilia, perché comunque la Sicilia fa tantissimi turisti internazionali l'anno, hanno iniziato a trovare un'offerta e così è nata una zona appetibile per gli stranieri, ma in realtà non è così, in realtà è al contrario, si è creata una zona appetibile per gli agenti immobiliari da introdurre al mercato estero che era già lì presente e aspettava che qualcuno gli proponesse un servizio per acquistare la casa. Certo. Quali sono le informazioni indispensabili per il cliente straniero che viene a visitare virtualmente l'immobile, quindi prima dell'acquisto? Cosa deve trovare? Allora, consideriamo che l'acquirente straniero vive all'estero, non è nato e cresciuto nella zona in cui è l'immobile come potrebbe essere l'acquirente locale, quindi più informazioni gli diamo e meglio è. Ovviamente le fotografie perché è essenziale, la vendita è comunque sempre una vendita emozionale, già lo è nel mercato locale, lo è ancora di più all'estero a persone che sono appassionate dell'Italia perché loro acquistano qua per la passione per questo paese, per la nostra cultura, il nostro stile di vita, non per un investimento immobiliare. Quindi anche la descrizione non deve essere tecnica, deve essere passionale, io ti devo far innamorare di quell'immobile. La fotografia appunto è forse il media più d'impatto che ci può essere perché in un attimo io riesco a capire che cosa ha quell'immobile da offrire, che impatto mi può dare emotivamente quell'immobile. Quindi la fotografia è molto importante, soprattutto la principale, e poi via via le altre, e poi fornire più informazioni possibili. E non dare per scontato, molte volte magari non mettiamo l'informazione in una descrizione per un immobile dedicata ai locali perché diamo per scontato, se io ti dico in quel paese tu sai già quanta distanza c'è dal mare, i servizi che ci sono, eccetera. Lo straniero magari non lo sa, quindi dire anche questo, dire che Tormina non è esattamente sul mare, magari è un'informazione che allo straniero magari può essere. Ho detto Tormina anche se è popolarissima, magari un altro paese, quel paese che noi diamo per scontato, che è a 20 km dal mare, magari lo straniero non lo sa. E la posizione geografica esatta dell'immobile, anche quella è molto importante. E poi dire, essere sinceri, aperti e trasparenti su tutto. Ok. Quali consigli daresti da specialista ad un agente immobiliare che vuole posizionarsi su questo mercato, cioè che vuole diventare il riferimento credibile per il suo territorio nei confronti degli acquirenti che arrivano dall'estero? Beh, i consigli sono tanti. Sicuramente lavorare bene, con serietà, con professionalità. Gli stranieri comunque hanno una certa diffidenza iniziale, ma non perché siamo italiani, perché c'è questa rettoria, assolutamente non è così, ma immedesimiamoci in loro. Se noi dovessimo andare a comprare una casa in un altro paese, probabilmente anche noi saremo super attenti e un pochettino diffidenti dal primo agente immobiliare o dal primo venditore che si presenta per vendersi un immobile. Quindi lavorare già bene su quello. Poi ovviamente c'è il posizionamento, c'è internet. Noi il 97% dei potenziali acquirenti, degli stranieri che cercano un casino in Italia, lo fanno attraverso internet. Quindi ovviamente portali immobiliari e Gateway questo. Un bel abbonamento a Gateway. Un bel abbonamento a Gateway. Gateway è un'ottima partenza e ti dà comunque già una certa visibilità, è una certa mole di acquisizione di contatti. E poi questi contatti bisogna curarli, coccolarli, seguirli, poi comunque dare informazioni, spiegare bene qual è il processo di acquisto. Noi con il nostro sito lo facciamo bene, però ad esempio ci sono poi tante leggi locali che noi non possiamo dare perché cambiano di regione in regione, di provincia in provincia. Purtroppo l'Italia ha un po' questa cosa qua. Però l'agente immobiliare che è nel territorio può dare informazioni attraverso il proprio sito, ma anche se uno non si vuole creare un blog, attraverso internet, attraverso Facebook o altri canali, attraverso delle newsletter, eccetera, eccetera. Per fare un po' di marketing di contenuto, per raccontare la storia, cioè dove sei, raccontare il perché, far comprendergli il perché l'acquivente straniero dovrebbe acquistare dove lavora lui. Esatto, ormai il marketing non funziona più. Quanto sono bello, quanto sono figo, compra da me, non ci crede più nessuno. Ti devo dare delle informazioni, devo comunque posizionarmi come voce autorevole nel settore, nel luogo, geograficamente, però comunque come voce autorevole. E ripeto, non lo posso fare dicendomi da solo che sono bravo e sono bello. Devo dare dei contenuti, devo far capire, devo spiegare e questa cosa poi arriverà da sola. Benissimo, benissimo. Quindi, allora, un appello agli agenti immobiliari per visitare il vostro sito, quindi gate-away.com. C'è una sezione dedicata agli agenti immobiliari. Esatto, sì, dove possono compilare un form per essere più ricontattati con una proposta di abbonamento. Assolutamente sì, visitate il portale, visitate il nostro blog che sta nella versione italiana, quindi it.gate-away.com, per quelli che riguardano le informazioni verso le agenzie immobiliari, eccetera, eccetera. Invece sulla versione inglese c'è il blog per gli stranieri, quindi anche lì magari se volete andare a vedere che tipo di informazioni diamo all'estero lo potete fare. contattateci, chiamateci, noi siamo a disposizione. Soprattutto non vendiamo soltanto un abbonamento, ma noi vendiamo anche una consulenza e diciamo un supporto alle agenzie immobiliari. Quindi capiamo che è un mercato nuovo, non è così difficile perché basta veramente applicare le regole che si applicano comunque, le di buona norma per poter vendere, però appunto essendo un mercato nuovo diamo tutta la consulenza e tutta la nostra expertise. basta ascoltare i consigli e magari provarci, poi i risultati arriveranno. Allora, ringraziamo quindi Simone Rossi, direttore generale di gateway.com. Grazie a voi. Un saluto anche da Giardò Paterna per ETV e ci vediamo prestissimo per la prossima intervista. Ciao. A presto. A presto. A presto.